Ok, benvenuto a tutti a questa prima puntata del Laboratorio dal Basso. Quest'oggi avveremo come relatori Nicola Lamascese e alle ore 18 Antonio Latrofa, che ci parleranno di BioagriCert e i marchi di certificazione biologica, mentre Antonio Latrofa parlerà della gestione delle risorse ambientali e i metodi di agricoltura biologica. Io mi presento, sono Francesco di TurnelSud.com, un progetto, un'azienda turistica che si occupa di turismo sostenibile in Puglia e connesso anche alla valorizzazione del territorio attraverso i prodotti tipici locali e anche un tipo di agricoltura più responsabile. Assieme all'azienda Bioesisto abbiamo deciso di creare questo Laboratorio dal Basso, personalmente il secondo in qualità di project manager di Laboratorio dal Basso, e appunto per richiamare il tessuto sociale locale a una realtà, che è quella del biologico oppure l'agricoltura organica, più sostenibile per il territorio e che può avere appunto dei risvolti positivi sull'economia locale e sulla qualità della nostra vita. Assieme a Bioesisto abbiamo cercato di racchiudere in tre giorni tre argomenti, come il biologico appunto oggi, la cucina responsabile domani, con Sonia Piscicelli e Antonio Pellegrino, mentre il terzo giorno le basi e le ricadute positive sul territorio dell'agricoltura organica, in cui la giornata appunto del 12 ottobre Susanna De Benedetti di Deafal ci illustrerà un po' appunto tutti gli aspetti positivi che questo progetto di agricoltura organica di Deafal ha avuto nel nord Italia e in Sud America. Adesso vi lascio la parola a Daniele, di Bioesisto. Buonasera, appunto, sono Daniele, sono il brand manager di Bioesisto. La nostra è una realtà che si sta approcciando appunto l'agricoltura biologica, siamo in fase di certificazione, è da un anno che coltiviamo i nostri terreni a Tortorella e con Francesco e con il loro progetto abbiamo trovato molta affinità, infatti stiamo cercando di collaborare su più fronti, proprio perché vogliamo tramite questo laboratorio e tramite altri progetti far sì che tematiche come appunto il biologico o comunque il chilometro zero, la rivalutazione dei prodotti tipici, ad esempio domani pomeriggio ci sarà Antonio Pellegrino che parlerà del lavoro fatto con la rivalutazione dei grani autoctoni della loro zona, del Cilento. Quando si pensa a biologico spesso magari si pensa esclusivamente alle qualità positive che i frutti del biologico hanno, magari non poi focalizzando sul fatto che il biologico ha delle virtù estremamente importanti per la terra, perché la terra negli ultimi 50 anni è stata letteralmente superata dalle agricolture intensive e quindi oggi appunto siamo qua a parlare anche di questo. Niente, io vi stimolo a utilizzare l'hashtag ufficiale che è EcoFood per qualsiasi vostra considerazione ora e dopo i laboratori e a continuare poi a seguirci se non potete fisicamente domani e dopo domani ma in streaming, perché comunque saranno tre giornate altamente interessanti. Ringraziamo ovviamente poi sempre l'apporto della Regione Puglia con Arti che ci permette di fare queste bellissime iniziative, cosa da non poco perché altrimenti non le fanno. E niente, vi auguro un buon pomeriggio. Facciamo parte dell'IFUAM. Nella prima slide avete notato che siamo stati uno dei primi soci dell'IFUAM. Che cos'è l'IFUAM? Praticamente l'IFUAM è stata ed è la prima organizzazione mondiale che ha cercato di dare delle regole scritte, delle norme tecniche su come si deve praticare, intendere e divulgare l'agricoltura organica. Tenete presente che in Italia viene chiamato biologico, anche in Francia biologique, ma il termine esatto a livello mondiale è organic. Quindi bisognerebbe essere più precisi nel definire la nostra agricoltura, questo tipo di attività come agricoltura organica e non agricoltura biologica, perché il termine biologica ha creato molti problemi dal punto di vista dell'interpretazione, però più propriamente il termine corretto è organic. Quindi questa organizzazione, che è un'organizzazione indipendente, non legata ad alcun ente pubblico nazionale o internazionale, ha dato delle regole, regole scritte, a cui coloro i quali volessero far parte dovevano sottoscrivere questo protocollo d'intesa, firmato ovviamente dagli enti di certificazione, tra cui l'Ubio Agricert, il quale era delegato a effettuare i controlli per conto di IFOM a tutti gli operatori che avevano intenzione di praticare questa attività. Questo è un altro tipo di evoluzione. Vi faccio una piccola digressione polemica, diciamo così polemica dal mio punto di vista. Tenete presente che la normativa finora, cioè fino al 1996, non esisteva nessuna normativa pubblica, ente pubblico, in questo caso la Comunità Europea o nazionale, che avesse dato un timbro di obbligatorietà, o meglio di legalità, alla pratica dell'agricoltura biologica. Finora era tutto nelle mani, secondo me con molta lungimiranza, di queste organizzazioni non profit, tra cui c'era l'IFOM. Che cosa è successo? La Comunità Europea, che se ne dica, è stata la prima a livello mondiale a capire l'importanza dell'agricoltura organica, la chiamerò comunque agricoltura biologica. Perché ha capito? È stato lungimirante. È stato lungimirante perché? Perché ha verificato che finché queste norme, questa norma tecnica scritta dall'IFOM o scritta da altri enti di altri paesi, non fossero state rese, diciamo, pubbliche, tra virgolette, evidentemente poteva essere data, ci poteva essere la possibilità che ognuno potesse interpretare queste norme utilizzando il nome biologico organico in maniera non corretta, creando problemi evidentemente all'utilizzatore finale, che è il consumatore. Dandolo delle regole, molte volte stringenti, molte volte anche non molto coerenti, però comunque si è fatto questo passo, la Comunità Europea nel regolamento 2092 del 91 ha definito per legge cos'è l'agricoltura biologica. Dal 91 fino a 6-7 anni fa, in pratica, era l'unica figura pubblica a livello mondiale che si è dato delle regole. Evidentemente questo che cosa ha comportato? Ha comportato che chiunque avesse seguito queste regole aveva la possibilità di indicare sui propri prodotti, chiaramente agroalimentari, il termine biologico organico e quindi dare una plusvalenza, soprattutto un ingresso, una possibilità di export in altri paesi che magari un prodotto convenzionale potevano avere. Questo che cosa ha determinato? Determinato che l'economia agroalimentare che teneva presente questo tipo di certificazione ha, tra virgolette, sfondato in alcuni paesi di rilievo, tra cui gli Stati Uniti, tra cui il Giappone. Ecco la polemica. Gli americani, maestri del protezionismo, hanno capito che lasciando spazio a un ingresso di prodotto certificato dalla comunità europea nel mercato americano, quindi richiesto dal consumatore americano, avrebbe e ha portato a un'apertura di prodotti agroalimentari che il Paese degli Stati Uniti non era in grado di produrre. Evidentemente ha creato una concorrenza, cioè sono entrati prodotti che magari in America non erano ottenibili in quanto non potevano soffrire di questa certificazione pubblica. E quindi si sono aperti dei canali. Nei canali di commercializzazione molto interessanti per i nostri agricoltori, le nostre aziende agroalimentari, con il vantaggio anche di avere una riduzione dei dazi. Cioè in pratica la normativa americana dice che tutti i prodotti biologici hanno, diciamo, i dazi che devono, qualsiasi prodotto agroalimentare debba entrare, sono ridotti. Non so di quale percentuale, ma sono ridotti. Quindi dal punto di vista commerciale per le nostre aziende è stato un toccasana. I Stati Uniti hanno capito che stavano perdendo una fette di mercato e hanno, si sono creata una loro norma pubblica, quindi regolata dal Dipartimento dell'Agricoltura. Quindi si sono dati, come ha fatto l'Europa nel 1991, nel 2010, se non erro, nel 2001, nel 2009, non ricordo esattamente, nel 1991, nel 2009, pensate quanti anni sono passati, si sono dati anche loro una norma. Quindi che cosa è successo? È successo che evidentemente affinché i prodotti biologici o organici possano, potessero entrare nel mercato americano, la legislazione americana e l'USDA ha detto ovviamente che questo prodotto poteva entrare se avesse usufruito del proprio marchio che è l'USDA Organic, il NOPSDA per National Organic Program. Quindi che cosa è successo? Tutte quelle aziende che avevano questo lascio passare di prodotti alimentari negli Stati Uniti per poter entrare e rientrare in questo mercato avevano e hanno la necessità di certificarsi. Cioè certificarsi però con la norma americana la quale non riconosceva fino a due anni fa la norma europea. Quindi è un vero e proprio protezionismo. Parole sostanziale, chi voleva esportare in America doveva certificarsi con la normativa americana. quindi seguire una strada diversa dal regolamento comunitario parallela ma diversa. Quindi con gravi di costi evidentemente perché l'azienda era obbligata a avere due certificazioni. Perché due? Perché per poter avere la certificazione europea comunque per fare Organic o biologico in Europa devi per forza certificare secondo il regolamento 18834 e quindi è il primo step. Per certificare in America dovevi seguire la norma USDA che a grosse linee non è per nulla differente da quella europea ma era solo una forma per creare questa barriera. Infatti le differenze sono minime molto minime tant'è e chiudo questo argomento tant'è che due anni fa finalmente si è capito che questo questo protezionismo non era non aveva ragione di esistere c'è stato un accordo molto faticoso tra i due paesi cioè esiste l'equivalenza cioè finalmente NOP ha detto io riconosco il regolamento comunitario il regolamento comunitario ha detto sì riconosco la certificazione NOP quindi significa che ora i prodotti tranne alcune eccezioni possono entrare e uscire liberamente con una non un'ulteriore certificazione ma con un'attestazione dell'organismo di controllo che questo prodotto segue anche la normativa NOP a ruota ovviamente il Canada ha detto io non sono da meno e quindi come per gli Stati Uniti anche in Canada c'era un libero scambio soprattutto in uscita di prodotti comunitari biologici in Canada e esisteva diciamo non c'era nessun non c'era nessun limite i canadesi hanno imitato gli americani e si sono creato un loro marchio un loro standard quindi anche per entrare nel mercato canadese è necessario che i nostri prodotti seguano lo standard canadese e quindi avere un'ulteriore verifica di qual è il processo di produzione per poter essere esportabile in Canada non ultimo i giapponesi perché uno dei mercati dei riferimenti per i prodotti biologici è proprio il mercato giapponese i giapponesi sono creati anche loro una loro norma il loro standard e quindi affinché il prodotto possa entrare in in Giappone è necessario che abbia l'azienda una certificazione chiamata JAS quindi un ulteriore controllo rispetto alla nominativa JAS che anche questa non ha grosse differenze rispetto all'834 ex 2092 regolamento europeo questo per farvi capire che nel 1991 è uscito il regolamento chiaramente è stato discusso molto tempo prima è stata molto molto lungimirante la comunità europea ed è stata praticamente copiata da tutto il mondo ovviamente per non per non essere da meno i francesi vanitosi per allora Grandeur si sono inventati questo marchio che è un marchio che molto probabilmente la comunità europea sta cercando in tutti i modi di limitarsi perché perché è un ulteriore marchio essendo la Francia un paese membro la direttiva il regolamento comunitario è superiore a qualsiasi altra differenzazione però i francesi vogliono che per i prodotti che vengono venuti in Francia si acquisisca quest'altro marchio che è Agricolture Biologie che è solo diciamo un passaporto per esportare prodotti ma dal punto di vista diciamo della normativa del processo di trasformazione o di produzione non cambia assolutamente nulla leggermente diverso il discorso Biosuisse il discorso Biosuisse è leggermente diverso perché la Svizzera non è un paese membro quindi chiaramente è un paese extra comunitario e quindi per poter esportare in Svizzera per poter importare in Svizzera non si fa riferimento al regolamento 834 cioè il comunitario ma bisogna rispettare dei protocolli che Biosuisse ha steso sui quali rispetto a tutti gli altri standard che vi ho elencato finora è quella più restrittiva è quella più esigente molto più esigente Biosuisse a differenza del regolamento comunitario ed è quella che più adesso è in voga anche con le nuove norme PAC ha visto l'agricoltura biologica in un'ottica ancora più eco-compatibile chiede delle applicazioni di metodi o di tecniche di agricoltura molto molto particolari e difficilmente perché ovviamente come ispettori ce ne accorgiamo difficilmente applicabili nei nostri territori ti chiede chiede diciamo delle tecniche delle situazioni ambientali dove possiamo dire il 90% l'80% delle aziende almeno della Puglia non possono non possono diciamo rispettare perché proprio come sono ubicate come sono strutturate come sono diciamo condotte non rispetta assolutamente quello che è previsto dalla Biosvis magari poi nel corso diciamo del pomeriggio vi elencherò magari le differenze che ci sono con il regolamento comunitario che ripeto sono state prese e applicate anche dalla comunità europea in riferimento alla nuova politica comunitaria che è molto seguace dell'agritura biologica stranamente vabbè Biagricet fa altre certificazioni che sono di tipo diciamo non regolamentato quindi non hanno il cappello dell'ente pubblico dell'autorità pubblica sono altre certificazioni più che altro sono standard norme tecniche private a cui molte aziende devono aderire per poter vendere il prodotto nella grande distribuzione infatti questo standard questo protocollo è un protocollo molto diffuso da noi specialmente nella zona di Rutigliano noi Cattaro ecco perché era interessante fare quell'incontro in quella sede dove qualsiasi prodotto parlo di ortofrutta specialmente uva e ortaggi per andare nella grande distribuzione devono avere questa certificazione che è una certificazione che si è creata la grande distribuzione per tutelare il consumatore però a differenza della certificazione bio questa è business to business cioè il consumatore non sa che il prodotto che sta acquistando è certificato perché se acquista in una determinata grande distribuzione chiaramente parliamo più di Germania paesi del nord sa che se compra un prodotto all'interno di quella struttura ha questa certificazione ma non lo troverà mai scritto su qualsiasi confezione a differenza del biologico quindi viene chiamata una certificazione business to business poi abbiamo quest'altra certificazione molto interessante che noi abbiamo attivato parecchi anni fa sulla base della norma 11.233 norma che è praticamente stata recepita dalla comunità europea quando vedete uni vabbè questo è un siglam un po' particolare però quando vedete nu sono norme tecniche quindi norme che si sono dati diciamo un po' i stakeholders che fanno parte di una certa filiera ma non hanno nulla di pubblico avvallato dall'autorità pubblica la produzione integrata con la nuova applicazione entrata in vigore della nuova PAC sarà obbligatoria cioè finora in Italia come in Europa l'agricoltura è divisa in tre fasce l'agricoltura certificata che poteva essere e quindi prodotti certificati che seguono un regolamento riguardo le DOP GP SCT e biologico un'agricoltura integrata che è questa che segue un disciplinare di produzione che ciascuna regione dell'Europa si è data e poi l'agricoltura cosiddetta convenzionale la classica agricoltura dove chi fa chi usa risorse diciamo naturali non viene assolutamente controllata e che è la stragrande maggioranza delle nostre aziende italiane europee ora con la nuova PAC l'agricoltura è suddivisa in due tronconi agricoltura certificata agricoltura integrata che cosa significa significa che manca un attivo ovviamente cosa significa che qualsiasi azienda agricola dal 2015 dove a partire 2014 poi per varie vicissitudini si è spostato al 2015 qualsiasi attività connessa alla terra produzione di prodotti agroalimentari può avere due tipologie di visibilità una è quella certificata ed è la classica biologico DOP GP eccetera l'altra è quella da produzione integrata la quale produzione integrata si divide in due tronconi io ve lo spiego come consumatori perché quando parleremo di etichette capirete la differenza in due altri tronconi la produzione integrata certificata cioè c'è una terza persona che certifica che quel prodotto è integrata è la produzione integrata non certificata che è diciamo sotto la vigilanza dell'autorità pubblica in sé per sé repressione frodi nas eccetera invece quella certificata è sì sotto il controllo di queste figure ma è sotto il controllo degli organismi di controllo che gli danno un cosiddetto bollino brutto a dirsi un bollino in cui è sicuro che quel prodotto ha seguito una certa filiera una certa un certo protocollo la differenza tra queste due step due gradini qual è? che nella produzione certificata o regolamentata o integrata i controlli sono non a campione i controlli vengono fatti ogni anno almeno una visita completa ogni anno o in base alla rischiosità dell'azienda può avere più visite ispettive di cui qualcuna non annunciata evidentemente nella produzione integrata non certificata siccome il controllo è a carico dell'autorità pubblica l'autorità pubblica non ha né mezzi né strumenti per fare dei controlli a tappeto come li facciamo noi quindi saranno dei controlli a campione parlare di campione capite cosa significa perché il campione è sempre un termine un po' vago nella certificata questo non accade esiste un piano dei controlli che viene depositato presso gli enti di accreditamento cioè gli enti che ci controllano e ci vigilano in cui diciamo quante ispezioni vengono fatte cosa viene fatto un piano anche di prelievo campioni per dare la massima garanzia all'utilizzatore finale che è sempre il consumatore vabbè poi ci sono altre altre certificazioni tipo la rintracciabilità la IDOP penso che conosciate cosa siano come anche le IGP queste sono le IDOP e le IGP che controlliamo noi a livello chiaramente nazionale come potete vedere Biagricerta ha sede centrale a Casalecchio di Reno Emilia Romagna vedete tra le IDOP e le IGP ne abbiamo uno due tre pugliesi più pane di materia che lo considero più pugliese che lucano come vedete la nostra regione non c'è nessuno che lo possa smentire è praticamente un grosso bacino di possibili individuazioni di prodotti tipici da certificare qui in questa slide manca una certificazione che se c'è qualche funzionario della regione di Puglia sicuramente si altererebbe perché non so se la sapete in Puglia c'è solo regione di Puglia è stata approvata dalla Comità Europea una certificazione particolare che è prodotto di qualità Puglia che cos'è è una cosa molto importante che non è ancora passata diciamo dal punto di vista divulgativo dal punto di vista della conoscenza è un un grosso successo della regione Puglia perché ha identificato questo marchio poi ve lo farò vedere ha identificato ha praticamente ha equiparato questo marchio alle doppie IGP che significa che il prodotto che ha questo marchio in Puglia ha gli stessi vantaggi economici commerciali e di diversa natura come le doppie IGP cioè che significa è come se la regione Puglia si fosse per lei ed è così creato un marchio un protocollo d'intesa un disciplinare tutto suo la Comunità Europea e anche il Ministero non è che ha visto questa cosa molto favorevolmente perché si trattava di mettere un altro marchio con tutta la confusione che poteva essere creare a livello di consumatore perché però da dove è nato è nato dal fatto che con le doppie IGP da un'indagine ma fatta seriamente da enti diciamo predisposti si è verificato si è valutato che il consumatore non identifica non era in grado di identificare il prodotto doppie IGP proveniente da un territorio è strano a dirsi perché le doppie IGP si fondono sul territorio il consumatore no il consumatore vede tuttora il doppie IGP come un'altra certificazione perché il consumatore italiano in parte l'europeo ancora di più perché il consumatore europeo che tu gli scrivi Garfagnana che tu gli scrivi Matera che tu gli scrivi Colline di Brindis per loro non sanno neanche dove si trovano cioè non hanno una 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 diretta intuizione di qual è il territorio di provenienza assolutamente no la regione Puglia cosa ha pensato attraverso queste indagini se invece noi identifichiamo questo prodotto con la Puglia che è molto più nota rispetto alle colline di Brindisi o al canestrato pugliese evidentemente il consumatore il turista ha una visione immediata del territorio di provenienza fatto sì che la Puglia bontà nostra sta avendo un ritorno turistico d'immagine notevole evidentemente il consumatore europeo se vede Puglia è probabile che quel prodotto l'apprezza pur essendo uguale a quello della DOP lo apprezzerebbe meglio in quanto capisce da dove viene evidentemente come ho detto prima il ministero e soprattutto la comunità europea l'ha bloccato per un paio d'anni questa iniziativa perché perché ha detto è una forma di protezionismo la soluzione si è trovata una soluzione diciamo un po' casuale però si è trovata in particolare cosa ha detto il Comitato Europeo io te lo riconosco come marchio quindi al pari di doppio IGP ha una condizione che questo marchio lo possa utilizzare qualsiasi altra regione quindi in teoria è come diciamo un prodotto tipo biologico cioè può essere utilizzato ovunque però deve rispettare il disciplinare di quella regione quindi teoricamente potrebbe esistere il marchio di qualità prodotti Toscana prodotti Emilia Romagna prodotti eccetera eccetera l'importante è che il marchio ora ve lo farò vedere il marchio possa essere un marchio utilizzabile da tutti ovviamente attualmente il prodotto il marchio prodotti Puglio c'ha Puglia però il marchio riconosciuto a livello europeo guardate questa è stata la fortuna c'è è una P allora la comunità europea ha detto vabbè la P sta per Puglia la regione Puglia ha detto no P sta per prodotto quindi avendo questa fortuna di avere la prima lettera come P di Puglia come prodotto questo marchio è stato riconosciuto a livello europeo quindi chiunque volesse utilizzare quel marchio può scrivere qualità prodotto di Emilia Romagna prodotto di Toscana questo scamotaggio ha permesso il riconoscimento evidentemente la Puglia essendo partita per prima ha necessità di farlo conoscere questo marchio sta penando perché la divulgazione magari forse in questo ambiente è un'eresia ma la divulgazione non è proprio il forte nel campo specialmente agroalimentare quindi agli agricoltori e soprattutto alle aziende agroalimentare questo messaggio non è arrivato qual è il messaggio il messaggio è che se vogliamo rivalutare il nostro prodotto o che sia biologico chiaramente questo è compatibile col biologico ovviamente sarebbe un valore aggiunto se questo prodotto lo riusciamo a valorizzare in quanto proveniente dal territorio così diciamo riconosciuto ha la possibilità di entrare in quelle strutture parlo di grande distribuzione ma anche di restaurazione in cui è necessario e importante che il prodotto sia proveniente della regione Puglia evidentemente la grande distribuzione ha detto io sono d'accordo gli spazi che io posso destinare a questo prodotto non sono a carico delle aziende agroalimentari ma sono a carico della regione Puglia quindi la regione Puglia ha voluto investire in questo marchio dando la possibilità chiaramente alle piccole e medie imprese agroalimentare di entrare in un mercato che non entrerebbe mai perché è molto piccolo l'importante è che il paniere sia tale da garantire alla grande distribuzione che questo prodotto sia sempre presente non è un prodotto stagionale quindi se si parla di taralli i tarallini tutti i prodotti nostri che vanno in voga io che giro è un continuo richiede di questi prodotti nostri evidentemente così hanno la possibilità di averlo in tutta Europa nella grande distribuzione con tra virgolette il patrocino della regione Puglia qual è la prerogativa e poi passiamo al biologico che si è persa qual è la prerogativa che è tutta non è che il prodotto è ottenuto solo nella regione Puglia in quanto prodotto finale prodotto finito ma tutta la filiera ma tutta la filiera quindi dalla produzione agricola allo stoccaggio alla trasformazione all'ottenimento del prodotto finito deve avvenire nella regione Puglia quindi chi usufruisce di quel marchio al pari delle doppie ovviamente significa che quel prodotto con tutti gli ingredienti che stanno dentro tranne quegli ingredienti esentati faccio esempio zucchero tutti quei prodotti sono ottenuti nella regione Puglia con quello che comporta come ricaduta invece gli aspetti legati all'ambiente ovviamente il prodotto di Puglia ha detto ok noi facciamo questo a una condizione ovviamente che gli agricoltori debbano quantomeno seguire il disciplinare di produzione integrata della regione Puglia che significa che questo prodotto rientra in quella categoria di certificazione o di identificazione dove chi vuole usufruire questo marchio debba essere controllato quindi noi agronomi dobbiamo andare in campo a verificare che il prodotto sia ottenuto attraverso quel disciplinare che è una rivoluzione perché dico questo agronomo perché ripeto una grossa percentuale dei nostri agricoltori non hanno mai avuto un controllo in campo mai anche se ci sono delle norme e delle regole e delle leggi diciamo anche nazionali che ogni agricoltore deve seguire tipo quadera di campagna smaltimento dei contenitori di fitofarmaci sono tutte leggi in vigore che non vengono mai vi dico sicuramente non vengono applicate evidentemente nel momento in cui entra qualcuno in azienda che ha l'autorità pubblica di verificare questo tutte le norme diciamo che sono a corollario della certificazione devono essere noi parliamo di norme cogenti devono essere rispettate evidentemente è una rivoluzione perché la rivoluzione ripeto mai si è vista entrare in azienda qualcuno che gli dica che acqua usi quanta acqua usi che uso ne fai che volumi adotti qual è il tuo smaltimento dei 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 contenitori hai hai fatto un corso di responsabili della sicurezza e della salute sono tutte cose che sono di norma applicabili e obbligatorie che non vengono assolutamente applicate evidentemente questa è una grossa rivoluzione questa è l'attività ora siamo andati diciamo a valle del discorso che volevo dire è l'attività che svolge Biagricerte in tutti questi ambiti di certificazione ripeto dal biologico all'integrato all'intracciabilità all'IDOP all'IGP al marchio di Puglia e altre certificazioni di altra natura sono in carico alla mia organizzazione che è fatta ovviamente quasi esclusivamente da liber professionisti non abbiamo dipendenti se non la parte amministrativa liber professionisti che sono o agronomi o tecnologi alimentari o al massimo biologici quindi tutta gente che è esperta o ha conoscenza di qual è la materia di cui è preposta al controllo vabbè abbiamo altre certificazioni legate sempre al concetto del rispetto dell'ambiente del rispetto degli animali quindi nella cosmesi nel tessile nell'opera d'acqua nell'eco energy nella gestione di aree verde urbane questa è è molto importante è una cosa diciamo che per noi pugliesi può essere una chicca o può essere una trascurabile ma in alcuni ambienti è fondamentale faccio un esempio personale io dieci anni fa ebbi una richiesta da un'azienda nel ventapontino per certificare un aranceto vabbè vediamo questo aranceto vediamo se è predisposto eccetera vado in questa azienda e trovo l'aranceto in isola all'interno di un campo da golf e io ho detto no qui è un'attività agricola non è un'attività ricreativa e quindi non è applicabile perché il biologico prevede tutte delle precauzioni prima di poterla adottare quindi si fa una cosiddetta visita di fattibilità alla mia domanda ho detto scusa ma perché vuoi certificare questi aranceti che sono quattro alberi all'interno di queste isole se tu neanche li raccogli i prodotti no mi diceva no egregio dottore il problema è un altro qual è? è che questo campo da golf è frequentato da svedesi e da danesi e loro non vogliono venire a giocare a golf su prati che siano trattati che siano diserbati vogliono stare in un ambiente diciamo salutare apri di cielo è un paradosso questo cioè si utilizza una norma dell'agricoltura per poter utilizzarla ad altri fini che sono quelli recreativi da qui è nata l'idea della diciamo della mia organizzazione di mettere giù una norma tecnica quando parli di norma tecnica è una norma privata fatta da noi per la gestione delle aree verdi urbane e sportive e infatti alcuni campi specialmente nella Toscana guarda caso da golf seguono questa norma tecnica quindi si vantano di dire ok noi non è che facciamo biologico perché per un prato è molto difficile fare biologico però adottiamo tutti quei sistemi in base alla norma tecnica che noi abbiamo messo giù per affinché ci sia una drastica una drastica riduzione di tutti gli apporti non tanto di fertilizzanti quanto i prodotti chimici o quanto meno che è la filosofia del biologico prevenire qualsiasi tipo di attacco attraverso delle tecniche culturale che siano confacenti e quindi molti campi da golf specialmente nel vicino Orbetello e alcuni campi di calcio non quelli dove si gioca la partita di serie A serie B ma i campi di allenamento perché perché ovviamente nel campo di allenamento ci stai almeno quattro volte alla settimana e quindi evidentemente stai in un ambiente dove non vai a respirare residui di fitofano eccetera eccetera è molto più importante che andare a fare quella singola partita della domenica evidentemente i campi di allenamento chi è lungimirante ha chiesto questa certificazione questo per farvi capire come il biologico indirettamente ha trascinato tante altre attività agricole o connessa l'attività agricola perché ha dato un indirizzo chiaramente è stato un travaglio ovviamente mettere insieme all'epoca erano 12 paesi per dare questa norma è stato un grosso travaglio però almeno si è dato un indirizzo a quale ogni anno è stata fatta una variazione un'applicazione devuta dall'esperienza ovviamente tutti gli altri settori legati ne hanno tratto spunto e sono uscite tutte queste certe direzioni ma anche la Cosmesi la Cosmesi non è certificabile secondo un regolamento comunitario perché quella è legata all'agroalimentare però che cosa ha fatto la Cosmesi che è quella che sta più spopolando benché c'è crisi molti aziende di Cosmesi dicono nella loro etichetta che il prodotto è certificato non bio in quanto diciamo edibile ma bio in quanto tutti gli ingredienti che si utilizzano per produrre quel cosmetico derivano o da agricoltura biologica parca c'è dalla salvia rosmarino zafferano tutti questi prodotti che rientrano nella Cosmesi con tecniche biologiche o se sono di origine animale da allevamenti biologici quindi il prodotto in sé per sé può essere inteso come bio ma non come prodotto edibile chiaramente però fa capire al consumatore che lì dentro ci sono per una certa percentuale non tutti non tutte dell'ingredientistica proviene dall'agricoltura biologica qual è il cosiddetto plus dell'agricoltura biologica e veniamo all'aspetto diciamo più 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 tecnico vi ho detto un po' la cronistoria ma alla fine cosa si può certificare e come avviene la certificazione di chi sono le responsabilità dell'emissione del certificato il consumatore è sicuro che quello che ha etichettato vede etichettato bio è realmente bio sono tutte domande che chiunque si può fare e io ne ho tantissime però a differenza di qualche anno fa sto notando che il consumatore medio diciamo del centro nord ha la capacità di leggere le etichette questo è un grosso problema che hanno tutti i consumatori di leggere l'etichetta e che quando non è in grado di capire soprattutto non è certo di quello che si è scritto ha la possibilità di chiamare direttamente non l'azienda che la produce questa sostanza o questo prodotto formaggio può essere l'olio eccetera chiama direttamente dentro l'organismo di controllo cioè chiama noi e noi ne abbiamo tante di telefonate dove il consumatore vuole tutti i chiarimenti di che cos'è la norma se quello è bio non è bio eccetera eccetera allora Biagricet cosa ha fatto per rendere la cosa molto più trasparente circa 11-12 anni fa proprio alla Fiera di Milano ecco il collegamento con la Fiera di Levante però parlo anzi di 15 anni fa quindi siamo 15 anni in ritardo nella Fiera di Milano ci fu proposto come organismo di controllo di trovare un modo per poter collegare il prodotto che sta sul banco al consumatore e al produttore è la cosiddetta tracciabilità che ora è obbligatoria però rimane sulle carte invece noi l'abbiamo resa visibile attraverso proprio forse chi ci ospita lo può sapere proprio attraverso lo strumento informatico abbiamo creato un sito che si chiama trasparente.check dove chiunque può digitare il codice perché tutti i prodotti biologici ricordate vedremo hanno un codice digitare questo codice e verificare l'esistenza del certificato cioè che è vero e anche l'azienda che lo produce quindi viene chiamato trasparente.check è la massima trasparenza di quello che il consumatore deve avere cosa si può certificare e cosa non si può certificare chiaramente quando parliamo di certificazione organico biologico ripeto è quella normata cioè regolamentata esiste un regolamento europeo con tutte le applicazioni e come si dice le interpretazioni degli stati membri apro e chiudo parentesi gli italiani sono quelli che hanno creato rispetto alla norma tante di quelle interpretazioni che l'hanno ingarbugliata e quindi ha creato nel nostro paese un problema di interpretazione perché noi siamo bravi a complicare le cose la norma è quella ha dato la possibilità alla comunità europea ai paesi di intervenire per meglio spiegarla invece di spiegarla non l'abbiamo complicata quindi praticamente lo dico in breve noi ci troviamo con le leggi italiane ci siamo date la zappa sui piedi come suol dire entriamo in argomento in quanto rispetto ai francesi ad esempio nell'ambito del vino biologico abbiamo delle restrizioni che i francesi non hanno quindi i francesi possono tranquillamente certificare bio con il marchietto bio come ce l'abbiamo noi molto più semplicemente di quello che possiamo fare noi perché gli italiani si sono create diciamo questa forma burocratica che crea ostacolo alle aziende questo per dirvela tutta quindi evidentemente esiste una norma a cui bisogna fare 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 riferimento che cosa si può certificare quindi si possono certificare prodotti agricoli vivi o intrasformati prodotti agricoli trasformati succhi pasta marmellato eccetera mangimi e questo è fondamentale per poter avere la sicurezza che anche la produzione zootecnica possa essere sicuramente bio il materiale di propagazione le semente e in ultimo l'acquacoltura l'acquacoltura che per tre anni fa è andata finalmente è stata approvata nella quale anche i prodotti non della pesca acquacoltura cioè i prodotti allevati o a mare in vasca o in vasca con delle diciamo delle prescrizioni molto restrittive per poter creare diciamo determinare e produrre un pesce che non dico che possa essere simile a quello pescato ma che almeno garantisca il benessere dell'animale perché chiaramente parte tutto dal benessere dell'animale quando parliamo di sia acquacoltura che di zootecnia io che ho avuto la fortuna o la sfortuna di andare a certificare un'azienda di produzione di di orate e di spigole in vasca convenzionale e volevo convertirsi in bio da quel giorno il mio la mia spesa sulle spigole e le orate allevate in quella maniera è venuta meno cioè nel senso che effettivamente vedendo come vengono allevate non ti viene neanche la voglia di comprare quelle orate e quelle cose allora la norma biologica sull'aquacoltura ha dato diciamo delle regole che partono dal benessere chiaramente degli animali ma soprattutto al rispetto dell'ambiente perché gli aspetti legati agli scarichi gli aspetti legati al mangime che si dà perché ovviamente il mangime deve essere certificato ha delle caratteristiche e si evita il discorso del mangime prodotto dalla decomposizione degli stessi animali che sono rimasti giù sotto vasca lavorati rimacinati infarinati e ridati quindi una specie di cannibalismo memore della mucca pazza allora questo chiaramente è vietato per l'allevamento zootecnico è vietato anche per gli animali il convenzionale non lo sappiamo non lo sappiamo una definizione di che cos'è pesce non pescato chiaramente allevato bio da quello che è convenzionale è stata una grossa impresa non sono tantissime le aziende è molto difficile farlo applicare per vari motivi sia per un fatto logistico anche perché le vasche devono avere tutta una caratteristica particolare di compensazione territoriale eccetera eccetera che è difficile far rispettare e dall'altro punto di vista è un mercato che tendenzialmente va bene quindi un allevatore non vede perché si deve autoflagellare facendo entrare qualcuno che come dico io gli fa le cornici ovviamente una volta che tu entri in un'azienda non vedi solo quello che devi controllare ma vedi altri aspetti che sono legati alla legalità della struttura e ritorniamo al discorso precedente quindi quando noi entriamo in un'azienda entriamo in un'azienda l'azienda deve essere apposta dal punto di vista legale deve avere tutte le autorizzazioni a prescindere la biologia se non ha quelle noi ne usciamo anzi vi dirò di più essendo ispettori come si dice investiti di autorità pubblica in teoria se noi non denunciamo una trasgressione di legge in teoria possiamo essere accusati di omissione quindi immaginate gli ispettori i miei colleghi quando trovano in un'azienda dice non vedo non vedo non parlo qui dentro non ci sono entrato è un aspetto molto particolare che però ovviamente negli ultimi anni si sta via via esaurendo in tutti i campi parlo dell'azienda agricola ma soprattutto parlo delle aziende di trasformazioni panifici caseifici stoccatore di grano cioè quando entriamo in un'azienda valutiamo cosa non si fedeva o non si voleva vedere precedentemente vabbè questo è un aspetto positivo per il consumatore negativo probabilmente per alcuni operatori saranno in attesa di certificazione anche le alghe marine voi dite ma le alghe marine ma c'è un mercato di alghe marine che voi ne immaginate io non lo so se voi siete cultori di alghe marine ma nel nord Europa ne mangiano quando ne vogliono e soprattutto sono molto ghiotti per noi è un discorso impossibile da considerare invece sarà regolamentato perché anche le alghe marine hanno una loro valenza diciamo gastronomica diciamo così e quindi chi vuole avere delle alghe marine che siano biologiche o meglio nel rispetto di alcuni parametri deve essere soggetto alla certificazione è chiaro che questi input non è che se li inventa il legislatore non è che se li inventa l'organismo di controllo gli input nascono dalle esigenze dei consumatori è evidente che le esigenze dei consumatori più evoluti tra virgolette provengono dal nord o per fatto di reddito o per fatto di cultura non lo so però tutte queste iniziative provengono da 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 consumatori del nord o perché non si fidano di quello che producono nel loro paese o perché dal punto di vista della disponibilità o dell'esigenza o da un fatto etico lo richiedono gli input partono da loro non certamente da noi e né dai legislatori figuriamoci il legislatore entra in campo solo nel momento in cui vede che c'è un uso non corretto di questi termini ecocompatibili biologico ecologico prima le etichette era una babele allora il legislatore è stato costretto a intervenire definendo che cosa è bio come viene menzionato come viene identificato così sarà per le alghe così sarà per gli animali di allevamento diverso da quelle zootecniche qui hanno messo il daino perché anche i cervi anche i cervi perché i finlandesi stanno spingendo perché i cervi si mangiano stanno spingendo affinché anche i cervi possano rientrare come regolamentati così come gli animali classici dell'allevamento zootecnico e infine anche i lieviti perché finora i lieviti erano esentati cioè qualsiasi prodotto che avesse bisogno di un lievito il lievito era esentato da essere biologico l'unica condizione che era necessaria è che il lievito doveva essere provenito dal meccanismo OGM free è chiaro quando parliamo biologico l'OGM non esiste non esiste non ci sono deroghe dove c'è OGM non ci può essere biologico non l'ho voluto dire però penso che era che era che era palese quindi per tutti quei prodotti dove non c'era una certificazione tipo il mais se vuoi mettere del mais per fare mangimi deve essere chiaramente OGM free se è biologico e sui lieviti non esistendo una regolamentazione si diceva che il lievito deve essere OGM free cioè deve provenire da microrganismi non geneticamente modificati ora se è fatto un passo in più anche i lieviti devono essere bio intendiamo non il lievito in sé per sé ma il substrato su cui il lievito è stato prodotto allevato eccetera eccetera deve provenire da sostanze di origine organica ma di origine biologica quindi il paradosso che il lievito è biologico ma non è il lievito che è biologico è dove si è formato e come si è formato che deve essere bio quindi dal 31 dicembre 2013 a scanso di equivoci probabilmente ci sono andate ad eroca perché per ora le aziende che sono riuscite a produrre il lievito biologico sono pochissime in Europa praticamente sarà obbligatorio anche nel pane quando comprerete pane bio o comprerete la birra bio il lievito deve essere biologico quindi nell'etichetta quando vedrete l'ingredientistica la farò vedere per ora il lievito non era steriscato cioè significa non provenire dall'agricoltura biologica dal 31 dicembre 2013 sarà steriscato significa anche il lievito è proveniente dall'agricoltura biologica questo diciamo è il futuro prossimo ovviamente tutto quello che vi ho detto è legato come si diceva prima non al prodotto finale il prodotto finale è quello che chiamo io la ciliegina sulla torta ma a monte di tutto ciò c'è tutta una filosofia una filosofia pavo anche di filosofia che determina questo benedetto marchio quali sono gli obiettivi dell'agricoltura biologica evidentemente potete leggere voi senza problemi che sono argomenti ora quasi comuni ma nel 1991 era pura eresia gestione sostenibile alta qualità dei prodotti ma soprattutto il rispetto dell'ambiente della salute umana della salute vegetale della salute e dei benessere degli animali questi sono gli aspetti gli obiettivi che voi direte è logico ma nella realtà agricola che c'era fino al 1991 queste non erano neanche minimamente prese in considerazione un'autocritica nel biologico manca solo un aspetto che qui come vedete non è menzionato perché è difficile farlo applicare per norma cioè per legge è la salute e il benessere degli operatori cioè qui parla della salute e del benessere di tutti però la salute e del benessere dell'operatore dell'agricoltore dell'operaio eccetera qui non è menzionata in altri schemi di certificazione che vi ho fatto vedere io il global gap invece uno degli aspetti principali oltre all'aspetto agronomico che in sé per sé è proprio il rispetto e del benessere degli lavoratori quindi i lavoratori vengono considerati come parte integrante del processo nel biologico per ora non entra ma successivamente sarà la prossima evoluzione del biologico è evidente che da dove parte diciamo tutto questo discorso allora io vi faccio una premessa personale io mi sono lavorato a Bari nel 1988 e tutto il mio diciamo escursus diciamo universitario era improntato su concetti che erano legati alla massimizzazione delle produzioni all'uso indiscriminato di prodotti mezzi tecnici quando parli di mezzi tecnici parli sia antiparasitari concimi diserbanti e il rispetto della biodiversità il rispetto delle risorse diciamo naturali e il rispetto diciamo anche del consumatore io in quattro anni nell'epoca era quattro anni non ne ho mai sentito parlare quattro anni università qui a Bari ora vedo allora ho finito diciamo questo percorso diciamo universitario dove lo trovo a lavoro eccetera eccetera e quindi mi sono non provenendo da una famiglia agricola quindi di agricoltori evidentemente il mio obiettivo era proprio questo cioè dislegare l'aspetto puramente produttivo o meglio legare l'aspetto produttivo a quello del territorio della natura e in generale del diciamo del sistema ambientale e quindi che cosa è successo da lì a poco è nato il regolamento ripeto 1991 il regolamento comunitario e quindi sono entrata nel merito e proprio qui alla fiera dell'Elevante c'era uno scaffale non mi ricordo quello del padiglione dove c'erano dei volantini che si parlava di agricoltorobiologia che non era regolamentata ho comprato questi testi guarda caso erano quasi tutti stranieri se non anche addirittura del paese dell'est dove parlavano del terreno cioè parlavano di come il prodotto finale è strettamente legato al fattore terra esattamente il contrario di quello che in quattro anni l'università mi hanno sempre detto dove il fattore terra era l'ultimo aspetto gli aspetti più importanti erano i mezzi tecnici per produrre ma il fattore terra non era considerato che cosa ha portato l'evoluzione diciamo della sensibilità dei problemi di erosione problemi di sterilizzazione dei terreni eccetera a capire quali sono stati gli errori sia dal punto di vista del mondo accademico ma anche dal punto di vista del mondo produttivo anche nostro dei consumatori praticamente ora si è passati dall'altra parte della barricata gli stessi professori che mi insegnavano quello dell'industria chimica del prodotto chimico ora sono passati dall'altra parte della barricata del diserbo non si parla più di diserbate ma si parla di quello che in illo tempore si è sempre si è sempre detto i nostri padri i nostri nonni lo sappiamo benissimo che il controllo delle malerbe viene fatto con una buona lavorazione del terreno con una rotazione con l'introduzione di leguminosi con aspetti che madre natura ci dà ora stiamo tornando indietro quindi stiamo ritornando ma perché per vari motivi io dico anche per una presa di coscienza ma soprattutto perché la industria chimica che ha sponsorizzato tutto questo discorso fino agli anni 90 sta facendo in parte retromarcia cioè praticamente sta creando un settore di produzione di mezzi tecnici eco compatibili perché la sensibilità del consumatore si fa sentire i network funzionano internet funziona il passaparola funziona evidentemente ora c'è una presa di posizione dove anche coloro i quali si sono arricchiti con la chimica ora stanno producendo e mettendo sul mercato dei prodotti che siano utilizzabili nelle letture biologiche che cosa succede il mondo accademico che è finanziato ricordate bene è sempre finanziato in parte non sempre finanziato da diciamo da quello che le lobby chiedono evidentemente la ricerca si è spostata in quell'altro settore e quindi ora mi trovo i miei vecchi professori che parlano di tutt'altro o meglio bene rispetto a quello che facevano prima non perché loro non ci credevano ma perché quello era l'andazzo quello era l'input o meglio i finanziamenti dalla comunità europea erano indirizzati a quell'obiettivo e quindi dovevano fare quegli esperimenti quelle ricerche ora che la comunità europea sta finanziando esattamente l'opposto si stanno dedicando a fare delle ricerche in merito a quello che richiede il consumatore quindi c'è stata un'evoluzione anche dal punto di vista accademia fioriscono pubblicazioni di personaggi che prima dicevano esattamente il contrario o meglio non è mai tardi per migliorarsi però quello che voglio dire l'andazzo o la visione di tutti i componenti della filiera agroalimentare è ormai segnata l'indirizzo è quello perché c'è anche la spinta diciamo delle lobby su questo aspetto quindi estandoci le risorse uno può anche investire quindi l'aspetto principale su cui si basa l'agriturobiologico ricordate è il terreno il terreno cioè tutto parte dal terreno si parla di macrobiocenosi cioè il terreno è in grado è in grado di poter sostenere sviluppare come si può dire limitare qualsiasi aspetto che possa creare danno alla pianta in parole povere che cosa se il terreno lo manteniamo nello suo stato attivo riesce attraverso una propria rigenerazione a creare all'interno diciamo delle sue particelle delle sostanze che creano resistenza alla pianta in parole povere cosa significa se noi la pianta la mettiamo diciamo una data pianta vogliamo da questo una grossa produzione che era l'obiettivo principale ovviamente geneticamente questa pianta deve essere predisposta ad avere tot produzione se ha la possibilità di utilizzare quei macro e micro elementi tali da poterli recepire in maniera veloce e in quantità diciamo rilevanti evidentemente se queste esigenze nutrizionali il terreno non ce li ha la pianta che potenzialmente può produrre tantissimo non produce quindi il parallelo qual è una pianta che deve produrre tanto deve avere bisogno di tanta cura diciamo dell'aspetto nutrizionale ok ora la cosa si è ribaltata siccome da un certo punto di vista non è più importante la quantità ma la qualità come abbiamo visto non è più necessario che ci sia una pianta dalle alte potenzialità produttive noi abbiamo bisogno di una pianta che abbia delle potenzialità medie ma che si integri o soprattutto si tra virgolette accontenti di quello che il territorio il terreno mette a disposizione che significa semplicemente che se una pianta è autoctona è autoctona significa che sta da lì da migliaia di anni è capace di poter resistere a tutte le patologie o a tutte le esigenze già le carenze nutrizionali in quanto è abituata tra virgolette a stare in quel territorio se noi mettiamo una pianta non autoctona evidentemente prima di adattarsi ha bisogno di crearsi delle resistenze siccome non c'è il tempo di farle creare resistenze le resistenze le mettiamo noi in maniera esterna attraverso i trattamenti invece se la pianta è in resistenza per sé noi il trattamento chimico ovviamente possiamo evitare non solo ma attraverso il terreno e proprio attraverso l'attività parlo proprio di microbiogenosi non so se avete mai sentito i microbiogenosi di microbiota di microbiota di microbiota di microbiota Grazie a tutti